Come concordato nell'incontro a Roma dello scorso 4 settembre, Anas ha fornito il cronoprogramma dei lavori per la messa in sicurezza della statale 337 della Valle Vigezzo, due le fasi per un investimento complessivo di 70 milioni di euro e un completamento dei lavori di progettazione stimato entro luglio 2023. Il lavoro nella fase 1 è già in gara e si prevede l'aggiudicazione provvisoria entro fine 2019, con aggiudicazione definitiva entro marzo 2020, salvo ricorsi o altri impedimenti. La conclusione dei lavori di progettazione previsti per la fase 2 è stimata per il 2023. L'avere un cronoprogramma è un ottimo risultato, non avevamo mai avuto nulla di scritto, incontrare i vertici Anas ha mai servito, commenta l'onorevole Alberto Gusmeroli. Soddisfazione dei sindaci dell'Unione per i lavori più urgenti, il primo lotto per l'importo di 10 milioni di euro relativi alla sistemazione dei versanti. Un po' di rammarico invece per le tempistiche del secondo lotto, l'Unione Montana Valle Vigezzo e i sindaci si sono presi in carico l'onere di vigilare. Che questi tempi vengano rispettati, dove possibile contratti. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'euro parlamentare Panza sottolinea come occorra creare un fronte comune per scongiurare il pericolo di incontrare intoppi nella burocrazia romana. E conclude, vigilerò con gli altri colleghi e con i sindaci vigezzini. E proprio il collega Gusmeroli aggiunge, credo sia possibile, pungolando Anas, velocizzare leggermente i tempi. Ricordiamo che nell'incontro nella capitale di inizio mese con la di Dianas Massimo Simonini, c'erano anche il presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Vigezzo Paolo Giovanola, il sindaco di Re Massimo Patritti, il presidente del viceo Arturo Lincio e l'onorevole Enrico Borghi.